no e poi è questo adesso mi è colate lasciate riposare per mezz'ora intanto pepagliamo il sugo adesso pepagliamo le copette per il sugo qui è un quattro mappa 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 Ancora facciamo le boppettine piccole e piccole Fate soffiggi la cipolla Adesso prendiamo la pancetta Quando la pancetta è pronta come deve per restare tutto E poi mettiamo la bocca e poi mettiamo il cuore Ecco fatto, è finita Wow! Dopo 10 minuti, tolieti in Quebec e le aggiungi delle popere. Ecco qua, la vostra bella pizza! Ma ora, vediamo la notte! E non guardare! Ho! E anche tatte! No! Grazie a tutti. Grazie a tutti.